ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi stavo saldando alcune cose e vi parlerò di questo tester digitale per batterie che c'entra mi si sono scaricate le batterie del casco automatico che le ho sostituite ho verificato con questo tester digitale per batterie se fossero cariche o meno e ho pensato ma io questo aggeggio lo posseggo da almeno due o tre anni e non ho mai fatto un video quindi quale occasione migliore è un piccolo tester digitale per batterie piccolissimo tascabile da tenere in un cassetto in tasca dove si vuole che ci aiuta tantissimo siccome secondo me è davvero molto utile ora vi faccio vedere come funziona iniziamo e allora ragazzi innanzitutto scusate il disordine stavo saldando sto realizzando dei piedini in metallo e vista che si è verificata questa situazione delle batterie ho preso appunto per parlarvi di questo aggeggio intanto lo venderanno alla lidl giorno 25 l'ho visto in un gruppo facebook hanno pubblicato una locandina ho riconosciuto il prodotto e ho pensato appunto di farvi questo video cosa è è un tester digitale per batterie che ci permette di verificare il livello di carica tramite questo display praticamente va a sostituire il classico tester che a volte risulta scomodo per verificare il livello di carica soprattutto delle pile piccole se non abbiamo un piano d'appoggio magari siamo davanti al cassetto dove teniamo le batterie utilizzare il tester può risultare scomodo e spesso nei cassetti ritroviamo batterie cariche e batterie scariche questo test mi permette di verificare il livello della batteria semplicemente poggiandolo da questa parte e poi da questo però devo tenerlo in questo modo è scomodo se avessi invece il classico tester dove dovrei poggiarlo con i cavi collegare mentre vengo la batteria insomma veramente scomodo questo invece ha un contatto per il negativo e questo per il positivo basta semplicemente farlo scorrere in alto posizionare la batteria al suo interno in questo modo e ci darà la lettura della batteria in questo caso full volt e mezzo la batteria è carica spesso capita come in questo caso di avere delle batterie gemelle queste sono due batterie della sony uno ipotizza che essendo due batterie gemelle possono essere entrambe cariche infatti questa è carica al massimo e questa invece è scarica è praticamente a terra solamente due tac quindi 007 volt pochissimo quindi una batteria che ormai non va più ed è veramente velocissimo perché guardate questa per esempio completamente a zero verificare con questa velocità tutte le basse batterie che possediamo è praticamente impossibile quindi prendiamo il contenitore delle nostre pile verifichiamo le pile cariche scariche e cestiniamo quelle che non vanno bene mi raccomando smaltita sempre le batterie come previsto non buttate le mani nella spazzatura normale sulla parte bassa c'è la possibilità per verificare il livello di carica delle batterie da 9 volt basta collegare la batteria qua sotto quindi positivo e negativo anche in questo caso ci darà il livello di carica questa è una batteria ormai completamente andata questa invece una batteria carica al massimo velocissimo ci permette di verificare qualunque tipo di batteria sia batteria grandi che batterie piccole addirittura le batterie a bottone mi mostra che anziché un volto e mezzo o un volt e 3 quindi batteria quasi scarica abbiamo i colori rossi da 0708 poi giallo 09 un volto 1.1 da 1.2 a 1.5 il colore diventa verde quindi la batteria praticamente può essere utilizzata ad esempio all'interno di un telecomando di un orologio questa per esempio ormai una batteria quasi andata anche questa da smaltire l'unico limite che ho notato è per le batterie a bottone di questo tipo perché essendo piatte dato che il contatto a questa rientranza non riusciamo a far fare contatto posizionando una rondella che faccia contatto con la parte alta e chiudendo avremo il livello di carica per il resto riesce a misurare tutte le batterie senza alcun problema permettendoci quindi di tenere solamente quelle funzionanti un limite che ho trovato è quello della difficoltà nell'apertura perché se avessero fatto una parte zigrinata sarebbe stato molto più facile aprirlo come vedete perfettamente liscio quindi per poter aprire bisogna andare o con le unghia oppure comunque fare molta forza per il resto davvero comodissimo una scala che va da 0 7 a 9 volt riconosce automaticamente quindi di quale batteria si tratta base a dove si trova quale misura stiamo facendo se si tratta di una batteria da 9 volti ci indica la tacca intermedia automaticamente possiamo capire che sono 5,4 davvero un piccolo utensile che però secondo me può tornarci spesso utile e allora ragazzi cosa dire di questo piccolo tester digitale per batterie secondo me è un piccolo utensile un piccolo tester digitale che semplicemente ci facilita la vita nella verifica del livello di carica delle batterie la stessa cosa possiamo fare ovviamente con un tester digitale classico multimetro però questo e secondo me ci velocizza tantissimo il lavoro soprattutto se abbiamo tante batterie rapidamente misuriamo e sappiamo qual è la batteria che va bene e qual è la batteria che non va bene lo so avrei voluto parlarvi di questi piedini farvi un video mentre li costruivo però ne dovevo fare tante proprio premure quindi niente accontentatevi di questa piccola recensione su questo aggeggio più che altro perché mi è capitato di vedere quando l'ho comprato persone che lo guardavano incuriosito e si chiedevano cosa fosse non capivano cosa era appunto lo lasciavano nel nell'esposizione invece secondo me è da avere tra l'altro 4 euro e 99 sono ben spesi perché vi permette di recuperare tante batterie che possibilmente butteresse non sapendo qual è il livello di carica del contenuto all'interno perché magari non funziona con qualche oggetto che va batterie però comunque riuscirete in qualche modo a riciclarle e a buttare solamente le batterie che non vanno bene perché verificando che le batterie sono buone le conservereste quindi risparmireste tantissimo secondo me ne vale la pena detto questo vi ringrazio di avere visto il video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video qua giù se vi è piaciuto cliccate sulla campanella iscrivetevi e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto